Per recuperare una parte del bottino hanno utilizzato addirittura gli escavatori dei vigili del fuoco perché i soldi erano sotterrati nei giardini delle abitazioni degli indagati. I carabinieri di Padova, Treviso e Bolzano hanno fermato sette persone sospettate di far parte di una banda specializzata in furti ai Bancomat e che faceva esplodere con ordini artigianali realizzati con la polvere pirica che estraevano dai fuochi d'artificio prodotti in una fabbrica di Napoli. Una banda che aveva il suo quartier generale nella provincia di Treviso, specie a Ponzano e Vedelago e che poi colpiva in Veneto, Trentino e Friuli ma anche in Belgio. Composta da sette giostrai sinti prevalentemente residenti nella provincia di Treviso i quali di notte con l'utilizzo di auto di grossa cilindrata e a forte velocità assaltavano Bancomat di uffici postali e banche asportando ingenti quantità di denaro. Una banda ritenuta pericolosa nella quale secondo gli investigatori ogni componente aveva un compito specifico, rubavano auto di grossa cilindrata, poi facevano anche due colpi a notte fuggendo a folle velocità, pericolosi per i danni fatti agli edifici ma non solo. Ma anche per il potenziale rischio all'incolumità dei cittadini che si potevano trovare nei luoghi delle esplosioni o degli utenti della strada, gli automobilisti. I colpi attribuiti alla banda sono avvenuti tra Bolzano, Rovigo, Udine, Pordenone e San Giorgio in Bosco, Alta Padovana, per un totale di oltre 300 mila euro, bottino in parte recuperato. È stato ritrovato interrato, quindi è stata fatta un'opera di scavo mediante scavatori. Si parla di un rinvenimento che in un caso è di 140 mila euro, nell'altro di 60 mila euro. Per molti di loro si tratta di profili già noti alle forze dell'ordine, anche imparentati tra loro, protagonisti di fatti di cronaca gravi. In un caso trattasi di un soggetto che ha anche alle spalle numerosi anni di reclusione, quindi di carcere e che non appena scarcerato non ha esitato a riprendere l'attività delittuosa.